È già troppo che sei lontano, ritorna dal lungo cammino. Giunsi e fu grande e spontanea l'offerta del pane, dell'acqua e del vino. Com'è amaro questo pane! Fratello, per il tuo ritorno l'ho fatto di fior di farina, ed è caldo, croccante di forno. Com'è aspro questo vino! Per te che sei ritornato dalla botte più vecchia e più dolce l'abbiamo spillato. Dove avete attinto l'acqua? Tanto sono andata lontana per attingerla dalla più fresca, dalla più chiara fontana. Ma io, né un boccone, né un sorso, potei mandar giù. Che a offrirmelo, oh mamma, non c'eri. Non c'eri più tu.